Siamo a Cremona Musica, siamo nello stand di Mario Porraro, l'iutaio che costruisce? Un po' di strumenti antichi, apportando anche delle piccole innovazioni, le chiamo piccole ma comunque sono, a detta degli altri, di chi se ne intende, degli esperti, sono innovazioni abbastanza importanti tipo quelle di alleggere gli strumenti, magari modificare un po' il diapason, nel senso che lo strumento risuoni meglio e tante altre cose. In effetti mi sono un po' distaccato da quella che è la scuola antica, soprattutto napoletana perché io costruisco soprattutto strumenti napoletani, i mandolini che sono qua presenti fanno parte della cultura soprattutto napoletana come ho detto prima e questo è uno degli ultimi modelli che ho prodotto io ho una bottega a Cicciano alle porte di Napoli e lavoro da solo per scelta, anche se qualcuno mi ha fatto qualche volta una proposta di creare una piccola associazione perché io credo che lo strumento lo deve costruire una persona cioè deve avere rapporto quella persona con lo strumento, quindi ho sempre diffidato da queste grosse fabbriche anche da botteghe dove anticamente, soprattutto anticamente, pubblicavano di costruttori tanti costruttori che costruivano uno strumento, le cosiddette botteghe antiche perché ho sempre pensato al rapporto che deve avere l'essere umano, la persona con lo strumento senza che interferiscano altre persone, chi fa la cassa, chi fa il manico che per me è un oggetto, è un rapporto con lo strumento e ho iniziato da autodidatta, io sono autodidatta, comunque non ho mai preso lezione non sono mai stato a bottega perché già a vent'anni quando ho iniziato a suonare perché io ho prima suonato, sono principalmente musicista, poi dopo intorno ai 30 anni ho iniziato a costruire, a pensare di costruire, a sperare soprattutto di costruire perché a vent'anni quando acquistavo gli strumenti pensavo, ma questi strumenti tutto sommato non è che siano tanto ecco non mi soddisfavano, per cui ho sempre sognato questa pulizia, questa pulizia del suono questa pulizia dell'estetica, in effetti è un po' quello che faccio io oggi uno strumento sobrio senza, come si dice a Napoli, fronzoli quindi significa essere arricchito da tante cose che lo appesantiscono lo rendono più un oggetto da forse appendere che essere utilizzato al servizio della musica ho fatto anche altre fiere, però in effetti questa è quella là ovviamente dove intanto c'è più organizzazione e poi comunque vengono persone da tutto il mondo anche perché Cremona, come tutti sanno, è la patria della liuteria ma anche perché è un posto dove effettivamente comunque funzionano le cose sono organizzate e per cui mi sono trovato bene il pubblico perché in effetti quello che interessa non è tanto la vendita perché poi tutto sommato in una fiera non è che uno va a fare la fiera per vendere fare la fiera per un contatto, perché oggi purtroppo i contatti non ci sono più perché ci sono i contatti attraverso internet e proprio in virtù di questo fatto cado in contraddizione perché devo dare l'indirizzo internet c'è il mio indirizzo, cliccare Mario Borraro e si arriva a me c'è il mio indirizzo internet